E' Claudio Bellucci, il nuovo allenatore dell'Arezzo. Il tecnico Amaranto è stato presentato nella sala stampa dello stadio comunale. Era quello che desideravo, perché volevo fare un salto nei professionisti da allenatore. Lo speravo, è capitata questa opportunità e non ho esitato neanche un secondo e ho accettato subito. Perché l'Arezzo è una piazza importante dove sono passati tanti allenatori bravi, però non solo questo mi ha spinto ad accettare l'Arezzo. Sono molto felice di poter allenare una società molto importante, con un pubblico importante. E niente, auspico che faremo un grandissimo lavoro. Bellucci, 42enne, ex giocatore di Serie A, è alla sua prima esperienza sulla panchina di una squadra professionistica. Sino adesso si era occupato del settore giovanile. Ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 2011 alla Lodigiani e poi dal 2013 alla Sampdoria, dove era stato anche calciatore. So di avere una grande chance. Non è da tutti uscire da un settore giovanile, anche se è un ottimo settore giovanile come quello della Sampdoria e avere subito la possibilità di allenare una società come l'Arezzo. Quindi coraggio, determinazione e grandissimo entusiasmo e motivazioni. Non vedo l'ora di iniziare perché tra una settimana ci ritroviamo e inizieremo subito a lavorare per dare soddisfazioni.